Con un nome così, non possiamo aspettarci che è un'esibizione artistica davvero surreale. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Ah, ragazze! La traste! Questa è un'eleganza! Ma io ascioccata! La testa ha tipo della frutta, del limone, dei pomodori. Dov'è qualcosa che ha a che fare con il mio dò, magari un po' o una a cui piace cucinare? Potrebbe essere, no? Inseri in palestra, tieni in piedi una festa, anche di inferda ripensi alla tua vita, le cose Anche hai lasciato cadere... È fisicato, eh! Guarda! È un bel sorello, guarda la coccia, guarda la gara! Da qui in palestra, per me un po' di musica leggera che mi seguiva! Come fai vedere da lei con la barba? Non capisco niente. E chi fa soppertutto non vedo i muscoli. Da qui, più o meno. Grazie.